il corso degli anni. Però in questo momento comincia la seconda fase dell'azienda, è già cominciata qualche mese fa e questo è il primo progetto del progetto di nascimento, un progetto che dà due soddisfazioni. Una, la prima, è quella di aver potuto farlo in Italia con Fincantiere, esattamente nei cantieri di Palermo, le quattro navi saranno, la prima sarà del 2015 sarà la SEC Sinfonia, sarà di nuovo in servizio allungata dal 27 marzo in poi, quindi dicevo soddisfazione perché è fatta in Italia con Fincantiere, in quale comunque l'azienda aveva già avuto dei rapporti perché soprattutto per le manutenzioni delle navi. E poi perché è un progetto di alta tecnologia, perché il primo progetto che è stato fatto, un allungamento che è stato fatto proprio interamente nei cantieri a SECON, con delle tecnologie molto avanzate che stanno a indicare sia l'eccellenza e la qualità dei cantieri italiani, ma dei tecnici e degli ingegneri italiani in generale.